Abbiamo avuto un periodo positivo, molto positivo iniziale perché venivamo da tre vittorie e poi positivo perché abbiamo continuato nell'ottenere risultati ma non siamo riusciti più a vincere con tre pareggi. Ci approcciamo a questa gara con la consapevolezza che è una gara che ci può dare tanto e proprio per questo la vogliamo fare piena e cercheremo in tutti i modi di ottenere risultato pieno che ultimamente in casa purtroppo ci sta mancando e che vogliamo assolutamente ritrovare. Ora abbiamo oggi il penultimo allenamento perché domani mattina ne avremo ancora un altro e quindi voglio valutare bene quelle che sono le condizioni di tutti i ragazzi per cercare di mettere in campo come al solito quelli che penso possano essere i migliori per questa partita. Avremo fuori diversi giocatori, Economus, Alzano e Morleo, Gionberg e Balcovec che sono in nazionale e Diachite, Floroflores e Brienza che per diversi motivi hanno degli acciacchi e salteranno questa gara. Con gli altri oggi e domani ci alleneremo, valuteremo bene quelle che sono le condizioni di tutti perché ieri anche Cristian Galano ha avuto un problemino e si è fermato prima dall'allenamento ma sono convinto che lui possa recuperare e essere a disposizione per la partita. Al di là dei nomi che ho fatto adesso, che ne sono abbastanza, per noi questo non è assolutamente un alibi ma è una grandissima opportunità per dimostrare noi stessi che abbiamo una rosa di qualità e che tutti gli interpreti hanno le possibilità di essere protagonisti in questa squadra e noi domani lo vogliamo dimostrare. È una squadra che ha allenato dei risultati perché è stata capace anche di fare dei risultati roboanti non ultimo quello all'andata contro di noi perché sicuramente venivamo da un momento positivo dopo aver fatto una grandissima partita in casa col Cittadella ne abbiamo fatta una brutta fuori casa con loro ma credo anche per meriti loro che hanno disputato una partita con grande intensità, grande ritmo e hanno meritatamente portato a casa un successo e questo per noi è un motivo in più per provare domani a ottenere i tre punti perché sarebbero per noi importantissimi in questo momento. Sono ancora da valutare ma non penso siano assenze per lunghi periodi quindi mi auguro che non lo siano perché sicuramente abbiamo fuori due giocatori importanti per noi però a disposizione ho tanti ragazzi bravi che possono essere in grado di fare una grandissima partita domani che è quello che abbiamo intenzione di fare. Giustamente voi tutti i giorni dovete dire tante cose alcune ovviamente sono corrette altre purtroppo possono non esserlo però non possiamo tutti i giorni stare a disquisire su quanto viene detto io ripeto sono convintissimo di avere tra le mani una rosa di qualità e abbiamo in questo momento alcuni interpreti che sono assenti ma ne abbiamo altri che sono presenti e che hanno le qualità per poter fare bene come hanno fatto bene i compagni che dovranno sostituire. Fa effetto perché siamo stati compagni di squadra e abbiamo passato dei momenti belli insieme e ovviamente penso faccio lo stesso effetto anche a lui perché ovviamente mi vede sotto altre vesti però insomma è un ragazzo in gamba che sta continuando a dimostrare che con le sue qualità può ancora fare bene in questa categoria come d'altronde lo stanno facendo alcuni interpreti nella nostra rosa e quindi io gli auguro finché avrà voglia di continuare a divertirsi di provare a farlo perché lo sta facendo ancora molto molto bene. Il nostro obiettivo è quello di provare a fare bene nelle prossime tre partite che avremo a disposizione perché ovviamente si sta avvicinando il finale di campionato e sicuramente tra qualche giornata si schiariranno meglio le idee a tutte le squadre ma sono straconvinto, come ho sempre detto anche ai ragazzi all'interno e mi auguro che possa essere lo stesso per l'esterno che le squadre forti sono quelle che riescono a resistere quando i momenti sono complicati perché in una stagione così lunga e così intensa qui ci sono tantissime partite impegnative non si può pensare di non attraversare difficoltà tutte quante ci stanno dimostrando che le hanno attraversate che le attraversano e purtroppo le attraverseranno mi auguro noi il più leggero e meno duraturo possibile però è la forza di chi riesce a resistere alle intemperie che poi fa sì che quando le cose vanno in maniera migliore si riesce con l'entusiasmo, con l'equilibrio e con la coesione tra i vari componenti a ottenere dei risultati importanti Il campionato non si decide adesso adesso ovviamente può essere uno slancio importante perché poi quando arriverà il momento in cui si deciderà il campionato qualche squadra, mi auguro che possa essere anche la nostra riesca ad arrivare con il vento in pop alcune squadre del nostro campionato ci dimostrano che all'improvviso possono arrivare nei piani alti e all'improvviso purtroppo quando meno ci sono aspetta si può anche scendere dai piani alti quindi campionato talmente equilibrato in cui in pochi punti ci sono tantissime squadre noi stiamo avendo la bravura di avere la continuità abbiamo l'ambizione di voler provare a fare meglio di quello che stiamo facendo perché sappiamo che c'è nelle nostre corde la possibilità di fare meglio però penso che ultimamente stiamo altalenandosi la qualità delle nostre prestazioni però i risultati non stanno mancando e questo ovviamente deve essere per noi uno spunto positivo e non per forza guardare sempre il bicchiere mezzo pieno ma provare a guardare il bicchiere mezzo vuoto ma provare a guardare anche il bicchiere mezzo pieno che questa è una squadra che è da sei partite che continua a fare risultati e mi auguro che ovviamente quando non si riesce a vincere ma non si perde neanche ovviamente dopo una serie di pareggi la vittoria sicuramente è molto più importante Grazie a tutti Grazie 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 Grazie.